Mi chiamo Cristian, ho fatto il corso di contabilità qua a Lodi. Sono arrivato che ero a digiuno, non sapevo neanche di cosa si parlava. Sono uscito con delle ottime nozioni. È stato un corso molto interessante, spiegato in maniera semplice, capibile anche da chi non sapeva di cosa si parlasse. Devo dire che è un ottimo corso e per chi si vuole avvicinare al mondo contabilità è veramente molto molto interessante e molto molto esaustivo.